Benvenuti al nuovissimo famo il piano sennò parto a cannone Fabrizio l'aspetti ma cosa ti prendi? Cosa c'hai oggi? Guarda è una cosa veramente indescrivibile Allora amici non staccatevi da lì Guardate la trasmissione e scrivete i vostri commentini proprio ecco così immediatamente Allora amici questo è il nostro sommario E mi raccomando seguiteci Scriveteci messaggi anche a me S'ho partito quando ti avevo detto E dai tu hai bevuto troppo Pongravi che siete ostia Quindi sono una cozza Stiamo esagerando A me mi ammazzano E tutto quello che è un inizio anche un finizio benvenuti A proposito ma poi con questo break estivo alla fine con tutti i stessi spasemanti Hai guagliato? Sì ma mi sono lasciata Quando? In quei giorni lì Non ho detto no? No ma però ragazzi Ti fanno il volo? Ma allora alla fine proprio con questa pausa estiva Hai trovato l'anima? Tante dediche La dedica più bella vincerà un premio Ma basta con questa scusa Devi sempre troppo Un buon partito Mi è partito il ponte Allora siamo qui Fabrizio Fabrizio Ciao Nice to meet you Appoggite se no si profonde Sì 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 Lo so Mi trovi così Insomma ci si rincontra dopo una notte passata A due ponti Che c'era Sperate un attimo mi sono scordato che c'era Che c'era la volta scorsa? Tennis vintage Stavo per dire La notte passata Deve informarti meglio Ho pensato a S2 C'è tu che pensavo devo rispondere Brutz No, no Che fanno molto Capisce Brutz Navra A strama Sbracca Smredra S 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 Legno Legno Racchette Cioè Say This is This is A racchette di legno No? How say in English? Ehm Cioè tu giochi a tennis? Yes Oh Più gioiosa eh Benvenuti Un po' più gioione Buon buon Comunque vabbè questa è No ma che premiazione No Siamo qua a fare un servizio Qual è premiazione? Poi di chi è premiazione? Poi questo neanche il tour Ho scritto Oscar e poi tu parti Martina come mia nipote che si chiama Francesca e lei e poi si chiama Marca